Cercheremo compatibilmente con il numero dei vaccini che avremo a disposizione perché purtroppo questa è una criticità al momento, cercheremo di vaccinare più pazienti possibili, soprattutto coloro che rientrano nelle cosiddette categorie rischio e gli ultri sessantenni. Perché è chiaro che limitare l'epidemia influenzale avrà degli effetti positivi anche sulla pandemia da coronavirus e a noi permetterà anche di essere facilitati nella diagnosi differenziale fra le due patologie che a volte sono abbastanza sfumate. Alcuni medici già hanno iniziato a fare le vaccinazioni nei propri studi con mille difficoltà, devo dire, perché purtroppo gli spazi non sono più quelli degli altri anni. Tenete presente che dobbiamo contingentare l'ingresso dei pazienti nei nostri studi, quindi la massa di pazienti da vaccinare deve essere contingentata, nel senso che devono entrare una alla volta, trovare gli spazi donnei, nei grossi ambulatori di medicina di gruppo in cui girano anche 13-14 mila persone. Ci si sta tentando di organizzare nel modo migliore possibile, però è certo che ognuno è lasciato un po' alle sue decisioni personali, non esiste un coordinamento esatto di questa situazione. C'è preoccupazione per il numero delle dosi che saranno disponibili, non solo per le categorie definite protette? Certo che c'è preoccupazione, perché dopo queste paure dello scorso inverno, certamente la richiesta da parte dei nostri pazienti è drasticamente aumentata, quindi a quello che ci risulta ad oggi sembra che le dosi di vaccino non siano sufficienti a coprire tutte le richieste. Non solo quelle obbligatorie, per legge, quindi gratuite, ma anche per quelli che vogliono farla privatamente. Questo purtroppo la nostra regione non è stata tra le prime, perché anche se non è neanche tra le ultime, devo dire la verità, ci sono altre regioni che stanno decisamente peggio di noi perché hanno ordinato i vaccini molto più tardi. Vediamo cosa succede a fine ottobre, ci hanno promesso che arrivano queste dosi di vaccini che dovrebbero, diciamo, per quanto riguarda i medici di famiglia, dovrebbero essere sufficienti per i pazienti a rischio. Però è importante anche dotare le farmacie per quelli che lo vogliono fare e che sicuramente non sbagliano a fare il vaccino, anche se non sono a rischio.